Oggi questo convegno per parlare di donazioni, per ricordare le sue figlie Giussi. In nome suo, in nome di un progetto culturale, dicevo prima, portiamo avanti questa campagna di sensibilizzazione di quanto riguarda le sue torche, perché è importante, quando succede un dramma, una disgrazi, è importante che giovani e meno giovani abbiano una speranza, abbiano un'altra scienza per la vita, perché si apre la vita alla speranza, a vedere il bello che ci circonda. È stato importante che tutte le istituzioni che contano nel nostro territorio, in questo angolo della nostra provincia, siano presenti e abbiano dato il massimo supporto e la massima collaborazione. È bello vedere il cinema arrivare pieno di ragazze, di giovanissime e giovanissime. È bello perché non parliamo solo di Giussi, parliamo di un grosso progetto di sensibilizzazione in direzione della donazione, in direzione del fatto che in Sicilia nella seconda metà del 2015 c'è stata quasi una battuta d'arresto. Bisogna capire che è un organo un momento importante, anche in un dramma come quello nostro da quarta decennia, portiamo avanti questo progetto culturale. È bello spiegare ai ragazzi cosa vuol dire un gesto d'amore, un gesto di donazione pure semplice.